Diciamo che sono contento, piano piano ho l'uguaglio, ho una posizione, lo miglioro, però dai, speriamo di riuscire a continuare così perché comunque questa stagione mi sta dando belle soddisfazioni, stiamo lavorando bene, si sta vedendo, quindi spero di riuscire a continuare così di nuovo. Riuscire a avere un po' più di forma sul fondo, perché adesso magari la prima gara va, la seconda faccio già un po' più fatica qui che ce n'erano addirittura tre, oggi ho patito tanto, quindi riuscire a trovare un po' più di forma e stabilità sul fondo e riuscire a avere dei salti ancora più stabili al trampolino, così da poter fare ogni salto, provare a migliorare qualcosa. Sì, diciamo che il terzo giro ho sofferto abbastanza, ho provato in tutti i modi a restare col gruppo, perché comunque il primo del gruppo era diciannovesimo, l'ultimo giro sono tornato un po' di energie e ho cercato di tenere duro, però l'ultima salita su in cima è piuttosto dura e lì ho perso i primi nel gruppo e poi come mi riesce bene abbastanza spesso, sono riuscito ad aumentare, andare forte l'ultimo chilometro e recuperare l'ultima posizione.